Musica Dopo la galleria idraulica scoperta tra il Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo e l'Acquedotto Vasariano riprendono le ricerche dedicate alla esplorazione del condotto idraulico dell'Acquedotto nel tratto che va dagli archi e che entra nella collina del Prato di Arezzo. La ricerca realizzata dalla Fraternita dei Laici ed in particolare direttamente dal suo primo rettore, il dottor Pierluigi Rossi, è in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Arezzo e con il Corpo dei Vigi del Fuoco. Nel futuro c'è anche la possibilità di aprire al pubblico. Il tracciato, a quanto pare, non ha un andamento rettilineo e sono state scoperte nette inversioni di percorso. Sta emergendo la possibile esistenza di un altro tracciato di un Acquedotto costruito in età addirittura romana o medioevale. L'Acquedotto Vasariano potrebbe avere avuto un contatto strutturale con questo più antico tracciato idraulico. Allo studio anche la presenza di una vasta cisterna romana sotterranea ubicata nella zona tra il Monumento del Petrarca e la Fortezza. I prossimi saggi archeologici saranno realizzati nelle prossime settimane.